Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Quello che vorrei, penso sia un titolo perfetto per questa notte. Lo so benissimo che è un titolo usato e strausato in tutte le salse. Però penso che a rendere speciale questo titolo, a rendere particolare, unico, sia la risposta che uno dà alla domanda, cosa vorresti tu? Sicuramente moltissimi risponderebbero soldi, soldi, soldi. E so benissimo che molti non sono d'accordo sulla frase, i soldi non danno la felicità, perché dicono, allora prova a dirlo a chi non li ha, come dice una famosa canzone di Carboni, e tutte frasi del genere. Il problema è che spesso si confonde felicità con tranquillità. I soldi danno la tranquillità. E uno può tranquillamente campare tutta una vita con la tranquillità, ok? Con una vita tranquilla, una vita economicamente tranquilla. Anzi, anche una vita ricca, se i soldi sono tanti. Però la felicità è un'altra cosa. La felicità quella non la compri, ok? Se hai quel vuoto dentro, fidati. I soldi non lo colmano quel vuoto là. Ti fanno stare tranquillo. Ti fanno stare tranquilla. Ma non lo colmano quel vuoto. Dopo molte persone e altre, le finte persone altruiste, potrebbero dire la pace nel mondo, ok? Come i concorsi una volta rispondevano alla pace nel mondo. Vabbè, che sono quelle risposte usa e eccetta. La pace nel mondo è impossibile da avere. Non siamo capaci di stare in pace neanche con noi stessi. Figurarsi con gli altri. Quindi non si può avere. Penso che molti potrebbero rispondere anche dicendo la sicurezza. Sicurezza di un lavoro appagante, di un matrimonio felice, che i figli stiano bene e cose del genere. Che è un po' la tranquillità, diciamo, ok? Però penso sinceramente che esistono ancora delle sicurezze a questo mondo. Ci sono delle sicurezze. Pensateci. Cose di cui eravamo sicuri fino a un anno, due, tre, quattro fa, adesso sono cadute. I matrimoni stessi falliscono. Il 50% è la percentuale sale, sale, sale. Cioè, praticamente non abbiamo più la sicurezza di niente. Questa è la verità. Se noi basiamo una vita cercando delle sicurezze, lo basiamo una vita... Spendiamo la vita in qualcosa che è un'utopia. È una speranza, appunto. Dopo mi potete dire che già il fatto di cercarle, quelle sicurezze, è un vivere. È dare uno scopo alla vita. Anche se magari non vengono trovate. E può anche essere. Personalmente, sapete cosa vorrei? Vorrei svegliarmi la mattina con la forza di dire voglio un bel giorno. Ok? Con la possibilità di dire voglio un bel giorno. E soprattutto arrivare la sera e prima di prendere sonno dire oggi è stato un bel giorno. Dovrei avere quella forza di poter cambiare tutto, ok? Di poter agire sul destino, di poter agire sulla sfortuna, di poter agire sulle cose che comunque non mi vanno bene. Su tutto quello che non va nella mia vita, su tutto quello che vorrei cambiare, su tutto quello che manderei a fanculo. Un giorno. Un giorno che parte in un modo, che parte con la voglia di cambiare tutto, la voglia di dire oggi sarà un giorno, non un giorno perfetto. Ok? Perché di perfetto non c'è nulla. Non voglio un giorno perfetto, non voglio una vita perfetta, perché non esistono le vite perfette. Non esistono, esistono nelle canzoni, abbiamo parlato anche ieri sera, ieri notte. Esistono nelle poesie, esistono nelle buone intenzioni, le vite perfette. Ma la vita non è perfetta. La vita è qualcosa che ti lascia sempre l'amore in bocca, ok? Dipende da quanto tu ne sei consapevole di questa cosa, quanto lasci correre, quanto dici, ma sì, vedremo, vedremo domani, risolveremo domani, dopo domani, dopo diventa un mese, diventa un anno. E alla fine ti trovi mischiato in un meccanismo da cui non riesci più a uscirne. Io vorrei semplicemente trovare la forza per avere un bel giorno. Un giorno di quelli che dico, oggi sono stato contento. Prendere il sonno e dire, oggi sono stato contento. Oggi è stato un bel giorno. Ecco quello che vorrei. E buonanotte.